Nicola Maffei ha confermato le sue dimissioni da sindaco di Barletta. Dopo l'annuncio di ieri questa mattina nel corso di una conferenza stampa, il primo cittadino ha votato il sacco e annunciato che se non cambieranno le condizioni politiche andrà a casa, giunta e consiglio compresi. Solo 45 giorni fa i barlettani avevano ridato a Maffei al centro-sinistra la delega a guidare ancora la città della disfida. I nodi sono tutti interni al Partito Democratico e alla sfida tra i consiglieri regionali Filippo Caracciolo e Ruggero Mennea. Le due correnti dei Democratici si contendono alla presidenza del Consiglio Comunale. La maggioranza nella prima seduta non è riuscita a scegliere il numero uno dell'Assemblea, dividendosi tra Michele Lasala, vicino a Mennea, e Enzo del Vecchio, uomo di Caracciolo. Maffei ha 20 giorni per ritirare le dimissioni consegnate oggi nelle mani del segretario comunale. Senza una svolta politica, l'impassa ha portato il sindaco a nominare una giunta provvisoria composta dai primi non eletti, Maffei confermerà le scelte annunciate.